Vilves che è una debuttante in Coppa dei Campioni, subito l'avvio, dopo un minuto e venti secondi la Juventus in vantaggio con Paolo Rossi tornato ad essere il pablito del Mundial. C'è questo lancio di Platini verso Briaschi, l'uscita del portiere Malinen provoca il rigore, trasformato da Platini che così segna il diciassettesimo gol di un francese nelle Coppe e raggiunge Nestor Convent. Ancora lo show di Paolo Rossi, ecco il suo secondo gol personale, terzo della Juventus e siamo nei minuti conclusivi della partita ma prima ancora che l'incontro si concluda arriva Paolo Rossi a concretizzare una...